Bene, ciao ragazzi, a tutti gli amici di Android Blog quest'oggi stiamo provando un dispositivo davvero molto molto particolare ve l'ho già montato, vi chiedete magari molti di voi cos'è è praticamente un obiettivo Sony Cybershot DSC QX10 da 18 megapixel che permette anche di fare uno zoom 10x ottico si monta praticamente posteriormente agli smartphone o montanti Android oppure ai dispositivi iOS di Apple e si collega a NFC oppure Wi-Fi permette quindi di ampliare notevolmente le capacità di una fotocamera di un normale smartphone abbiamo qui, diciamo, questa è la scatola abbiamo qui infatti le caratteristiche principali 10x di ottica al zoom e 18.2 megapixel vabbè il colore è nero la possibilità di inserire micro stick della Sony oppure le micro SD e parla vabbè di Exmor come il sensore CMOS, Sony Lens e poi Wi-Fi NFC e DSC QX10 all'interno della confezione che ora io ho già spaccottato era presente qui l'obiettivo e poi all'interno abbiamo una sorta di innumerevoli carte e cartoncini che sono questi che ho tolto che ci dico sostanzialmente come montare come fare con la camera e questo è il fondo e poi troviamo questo pratico cavo per attaccarlo all'USB e per la ricarica e questo pratico laccetto per attaccarlo al polso e poi questa guida abbastanza ampia bene detto questo direi allora di passare direttamente a parlare del dispositivo vi faccio vedere prima come si collega questa volta parto diciamo al contrario rispetto al mio solito e poi una volta fatto di vedere questo parleremo anche del dispositivo dobbiamo innanzitutto scaricare dal market andando a scrivere Play Memories Mobile questa applicazione una volta che l'abbiamo scaricata ci clicchiamo dentro e possiamo collegare o tramite wifi oppure tramite NFC il dispositivo al telefono qui c'è il tasto scusate è uscito fuori fuoco qui c'è il tasto on off ve lo faccio vedere poi andiamo a vedere in dettaglio basta andarlo a cliccare e praticamente si attende ora per sbaglio sono uscito ecco praticamente andiamo adesso quindi ad attendere che il dispositivo si colleghi ecco il dispositivo si è quindi già collegato come potete ben vedere quindi io praticamente scatto le foto con la fotocamera che è posta qui abbiamo queste possibilità abbiamo sia lo zoom che si può fare direttamente sul telefono sia abbiamo i tasti che poi andiamo a vedere abbiamo la possibilità qui di fare copia dal dispositivo collegato perché all'interno abbiamo inserito una micro SD autoscatto dimensione 18 megapixel è la massima e in 16 noni invece si va a 13 megapixel bene poi abbiamo vabbè salva le opzioni immagine controllata perché praticamente immagine controllata salva sul telefono un'immagine ecco che possiamo scegliere al posto di essere diciamo da 18 ma da 2 e quindi diciamo ripicciolita per un salvataggio più rapido poi quella originale viene comunque salvata sul sulla scheda SD che noi abbiamo inserito all'interno possiamo naturalmente anche scegliere di fare un video al posto della foto ecco qui che viene fatto il video tranquillamente e possiamo qui anche scegliere alcune opzioni ma direi qui nulla di particolare torniamo quindi in modalità fotografica e proviamo a fare uno scatto prendiamo il nostro classico oggetto e facciamo lo scatto ecco questa qua è la foto che è stata scattata ora la andiamo a vedere meglio scegliamo galleria ok va bene un attimo che vi farà trovare la foto e così ci vediamo anche le altre che sono state scattate con questo dispositivo ok ecco qua questa è la foto che è stata scattata è davvero buona non abbiamo nessun tipo di problema bene i dettagli poi il discorso della notte lo facciamo dopo queste sono altre foto che sono state scattate sempre da me e sono venute davvero davvero bene si vedono perfettamente questo ho messo con soggetto il Lumia 625 che sto provando in questo momento queste le mie caramelle preferite ma devo dire che sono foto davvero di alto di alto livello ora parliamo delle foto al buio questo dispositivo non ha un flash ma devo dire che questa foto che è stata scattata al buio o comunque non al buio ma comunque in una stanza davvero scarsamente di lumità in genere molto di meno rispetto a quando faccio foto non so in locali o in zone di sera e devo dire che vota molto bene ma poi ho provato a spegnere totalmente tutte le luci e chiudere le finestre e tutto e questo è stato il risultato quindi non un granché poi però mi è venuta una genialata cioè ho spostato la camera a questa posizione più sotto in questa e ho liberato lo spazio per il flash del mio Samsung Galaxy S4 e praticamente tenendo accesa la torcia e nel frattempo scattando la foto è stato questo il risultato una foto direi più che perfetta in una stanza praticamente totalmente al buio bene questi sono gli scatti che sono analizzati con questo dispositivo e sono davvero di alto livello per sganciare il dispositivo praticamente si sgancia da su c'è questa levetta che basta tirare un pochino si sgancia e viene a mettersi qui e poi in questo modo si richiude naturalmente il dispositivo ora ve lo faccio vedere poi è stato utilizzato anche staccato rispetto al telefono infatti rimettiamoci un attimo in fuoco praticamente andando ad aprire Play Memories si sta il tempo che si sta collegando si è collegato ecco vedete il tempo lo tengo fermo ma con la camera ecco vado ad inquadrare quello che mi pare benissimo e detto questo allora parlerei un pochino della camera e quindi abbandono il mio S4 andiamo a parlare direttamente della camera dell'obiettivo più che altro allora questo è un applicativo che si inserisce dopo e serve appunto per attaccare la camera allo smartphone naturalmente se noi non ne abbiamo bisogno quindi vogliamo utilizzarlo staccato basta premere qui togliere il tasto lock e questo premere questo pulsantino lock e questo va via qui abbiamo un piccolo led che ci indica la durata della batteria e se è presente o meno la sd quando non è presente c'è il simulo dell'sd con una sbarra poi abbiamo questo la zona qui questo incavo per mettere i treppieri poi qui abbiamo la possibilità di aprirlo e di andare ad inserire il cavo che abbiamo visto prima questo è il tasto scatto direttamente sulla camera questo è il tasto che si sposta su o in giù in base allo zoom che noi vogliamo fare qui davanti le varie specifiche 10x anche di ottica al zoom poi nel lato superiore abbiamo la zona per appoggiare il telefono quando dobbiamo collegare in un fc e il tasto on off una volta aperto invece questa zona troviamo qui la batteria ricaricabile tramite il cavo che abbiamo visto prima e qui praticamente il vano per essere la micro sd oppure la stick di Sony bene direi che quindi per questo dispositivo è tutto inserirò nella recensione il video e le foto che sono state realizzate con questo dispositivo anche per farvi rendere conto di come le scatta direi quindi che è tutto per questo DSC QX10 ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao